Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Un saluto a tutti i relatori ma anche a tutte le professionalità presenti in sala. Ci tengo a dire quanto quello della farmacia dei servizi sia stato un accordo importante per la nostra regione, ma non solo per la nostra regione, ma per il sistema sanitario regionale. E devo confessare che i risultati che mi sono stati indicati e trasferiti qualche mese fa sono diventati un punto di riflessione che ho allargato moltissimo sul territorio, nei consigli comunali, in tutte le occasioni dove noi abbiamo avuto opportunità di parlare e di condividere, di confrontarci. Ho voluto indicare l'effetto di alcune delle prestazioni delle farmacie e dell'accordo delle farmacie e dei servizi sul sistema sanitario regionale. Perché l'ho fatto? L'ho fatto perché questi risultati ci fanno capire come se tutte le parti del sistema iniziassero a lavorare in una direzione con maggiore coinvolgimento e maggiore interazione, sarebbe oggi più facile affrontare alcune delle criticità più importanti che il sistema ci fa trovare davanti. Innanzitutto l'inappropriatezza delle prestazioni, anche quante volte facciamo arrivare un paziente in una struttura sanitaria quando vediamo dal risultato dello screening che non era necessario arrivare ad esempio a pronto soccorso. Uno dei dati che mi ha colpito di più era rispetto a quello dell'elettrocardiogramma, è un esempio di come su 1200, se non ricordo male, l'elettrocardiogramma svolti nelle farmacie, solo due sono stati raccomandati di raggiungere subito il pronto soccorso, alcuni sono stati invitati a fare un controllo senza l'emergenza e l'urgenza del pronto soccorso, ma la stragrande maggioranza, cioè oltre il 90% sono stati tranquillizzati e hanno raggiunto la propria abitazione. Questi 1200 pazienti, se non fosse stato sottoscritto questo accordo, noi ce li avremmo trovati tutti e 1200 a pronto soccorso, ad appesantire numeri già molto importanti. Ecco allora, la riflessione qual è? Che noi abbiamo avuto 1200 pazienti in farmacia piuttosto che in pronto soccorso, lo abbiamo fatto con un'informazione, con un inizio che era sostanzialmente molto cauto da parte di tutti. Questo però ci indica quanto, se noi riuscissimo a sfruttare tutte le parti del sistema, potrebbe essere questo effetto poi rivolto, o meglio, un riscontro positivo sui numeri di accesso nei pronti soccorso e soprattutto delle liste d'attesa. In questo senso, questa è un'indicazione che noi abbiamo raccolto con estremo favore, oltretutto l'accordo della farmacia dei servizi è un accordo che nasce nella nostra regione, noi vogliamo implementarlo nei limiti del possibile e anche estenderlo con una collaborazione sempre più fattiva ai medici di medicina generale, perché se anche le farmacie e i medici di medicina generale riuscissero a interagire meglio con il sistema, noi troveremmo una maggiore forza, una maggiore aggregazione, una maggiore partecipazione al raggiungimento degli obiettivi per cui tutti noi lavoriamo, che è quello di maggiori prestazioni, ma soprattutto maggiore salute e risposte in tempi più brevi e più appropriate. Questo è l'obiettivo su cui stiamo lavorando e questo è l'obiettivo per cui la farmacia dei servizi ha dato un contributo e soprattutto un input molto importante. Grazie, ora non so chi deve, la dottoressa Carla. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questa sperimentazione hanno partecipato il 55% delle farmacie del territorio, quindi 295 farmacie distribuite in modo omogeneo su tutto il territorio regionale, quindi la sperimentazione ha riguardato tutto il territorio, questo è importante per la disomogeneità geografica, quindi è importante quando si sperimenta un nuovo progetto verificarne la fattibilità ovunque. Il 33% di queste farmacie erano farmacie urbane e il 22% cosiddette farmacie rurali, quindi di nuovo capillarità sul territorio. Come si diceva prima, 4814 servizi in telemedicina erogati nel periodo da giugno 2023 a luglio 2024, adesso il progetto è esteso fino a dicembre 2024 a livello nazionale. Di questi 4814, come già diceva il Presidente, 953 sono stati rimandati al medico di medicina generale, cioè è stato dato un consiglio di rivolgersi al proprio medico e 39 sono stati immediatamente mandati a pronto soccorso, quindi un'azione di individuazione precoce del bisogno di assistenza immediata. Il dato anche interessante è qual è l'impatto di queste attività sulla riduzione delle liste d'attesa, diviso per i quattro servizi che sono stati erogati, oltre cardiaco, oltre pressorio, elettrocardiogramma e spirometria, siamo a un 18% dell'oltre pressorio, quindi 18% delle richieste che sarebbero gravate sulle liste d'attesa sono state erogate dalle farmacie, fino poi passando al 12% per l'oltre cardiaco, all'8% per l'elettrocardiogramma e al 4% per la spirometria. Oltre ai servizi di telemedicina, la farmacia ha anche svolto un servizio di front office nei confronti del cittadino, supporto allo screening del colon retto, essenzialmente sull'informazione relativa alla preparazione del paziente, alla consegna del kit necessario per l'esame di screening, quindi 2422 servizi erogati, sempre nel periodo che abbiamo considerato. E poi un altro aspetto importante è l'informativa sul fascicolo sanitario elettronico, questo nuovo strumento, quindi importante che i cittadini possano avere un ulteriore punto di informazione rappresentato dalle farmacie, sulle potenzialità e sulla necessità e importanza che il cittadino attivi il fascicolo sanitario elettronico, che via via si sta popolando con tutti i referti necessari. E ancora quella che la parte che è stata chiamata nel progetto erogazione di servizi cognitivi, ovvero la ricognizione delle terapie farmacologiche per i pazienti che assumono più farmaci, 5 o più farmaci, nella valutazione anche delle interazioni fra questi farmaci attraverso appositi algoritmi validati. E quindi la segnalazione sempre al medico di medicina generale dell'eventuale possibilità di interazione tra i vari farmaci. L'aderenza alla terapia farmacologica per il paziente affetto da diabete, che è importante, l'aderenza alla terapia è uno dei criteri di successo della terapia, e la stessa aderenza per il paziente affetto da proncopneumovatia cronico-ostruttiva. Anche in questo caso i servizi erogati sono stati 131 per la ricognizione delle terapie farmacologiche, 1.127 per l'aderenza alla terapia farmacologica per il diabete e 501 per la broncopneumovatia. E poi c'è il lato che abbiamo pensato di chiamare oltre alla sperimentazione, cioè servizi che la farmacia eroga al di là del progetto. Uno è la vaccinazione, il grosso lavoro che è stato fatto durante la pandemia, il grosso supporto che hanno dato le farmacie alla lotta contro la pandemia da SARS-CoV-2, e nel periodo che stiamo considerando, quindi 2023-2024, in realtà fino a maggio, sono state erogate 29.856 somministrazioni di vaccino diviso tra l'anti-covid, l'anti-influenzale e l'anti-herpes zoster. Quindi di nuovo un importante punto di servizio per i cittadini. E poi c'è l'attivazione, il collegamento informatico delle farmacie attraverso il centro unico di prenotazione, quindi il collegamento informatico che vuol dire che ogni farmacia è collegata in rete con il centro e quindi può accedere alle agende e quindi prenotare gli utenti che si recano in farmacia. Quindi 9% di prenotazione, 79.000 prenotazioni, sul totale delle 846.947 prenotazioni erogate dal CUP. Una notizia, come sapete, a causa dell'attacco hacker ci sono stati dei problemi che sono in via praticamente risolti. Cioè abbiamo riconvertito tutta la profilazione dei farmacisti aumentando il numero di farmacie collegate al CUP. Quindi tutto questo, permettetemi di ricordarlo, è stato fatto grazie alla grande collaborazione dei farmacisti, delle associazioni che li rappresentano e che sono anche qui presenti e grazie alla collaborazione stretta tra le farmacie e i settori farmaceutico dell'Agenzia Regionale Sanitaria e il settore flussi informativi, perché dietro tutti questi risultati c'è il grosso lavoro di connessione di tutti i flussi, di tutti i database e quindi questa collaborazione effettiva dà poi dei risultati positivi. Vi lascio alle eventuali domande. Sottolineo Salvi, prego. Sì, grazie. Grazie, un saluto a tutti. Sono già state dette molte cose. Volevo puntualizzare alcuni aspetti. Questa farmacia dei servizi, farmacia di comunità, è ormai il futuro. Soprattutto perché ci garantisce una prossimità capillare. Le tecnologie ci consentiranno di aumentare le possibili risposte che vengono date a livello delle farmacie. Quindi la previsione è che vi sia un'espansione esponenziale di questi aspetti. ne è prova che cominciano ad attivare, mi risulta che nell'Università di Camerino ha attivato comunque un corso specifico per la farmacia dei servizi. Alcune università italiane cominciano a fare dei master, ma c'è anche un grande interesse internazionale a questo aspetto. E dobbiamo dire che noi siamo fortunati perché abbiamo dei farmacisti che a questo punto sono veramente professionisti della sanità, che intervengono nella cura e nella gestione della salute dei pazienti. Un altro elemento che mi ha un po' colpito è così che guardando il piano nazionale delle cronicità c'è un capitolo dedicato alle farmacie, però per la farmacia dei servizi, come un elemento essenziale per la gestione di quelle patologie del territorio che sono tipiche della cronicità. Quindi sicuramente grande espansione, vorrei fare alcune raccomandazioni, insomma essenzialmente due. Quello che è vincente in questo aspetto è la capillarità, quindi cercare di coinvolgere tutte le farmacie, diciamo nominalmente tutte le farmacie, se questo è possibile. L'altro aspetto è quello di omogeneità su tutto il territorio della regione Marche, che tutti possano fare tutto. Ormai la tecnologia, le connessioni ce lo consentono. Chiaramente tutto questo prevede una necessità di coordinamento forte, una cabina di regia o qualcosa del genere, per che tutti si muovano nella stessa direzione e negli stessi tempi. Grazie. Presidente. Buongiorno a tutti, grazie. Sono Marco Megoni, sono il presidente di Federpharma Marche, quindi rappresento le 540 circa farmacie presenti nella nostra regione. Io ringrazio per l'invito e ringrazio anche per quello che ho sentito e per quello che la nostra regione ha fatto in questo anno e mezzo per le farmacie, ma direi meglio insieme alle farmacie per i cittadini, perché i beneficiari di questa attività sono i cittadini che hanno avuto dalle farmacie, insieme ai medici di medicina generale, dal territorio, hanno avuto una risposta. Forse giustamente la professoressa ci dava la pandemia, durante la pandemia ci siamo resi conto di quanto il territorio è importante per la sanità, perché il modello ospedale centrico va bene per alcune cose, ma sicuramente non va bene per la gestione del paziente. Il paziente è il miglior luogo di cura del paziente, probabilmente a casa sua, assistito e supportato da quello che sul territorio le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri ovviamente possono fare. L'ultimo accenno sui numeri ovviamente per noi sono molto gratificanti e come già dicevo, anche secondo me il 55% nella sperimentazione era proprio il target che era dato alle linee guida e che noi abbiamo raggiunto, ma chiaramente al regime ci auspichiamo un coinvolgimento dei tre quarti, almeno delle farmacie, specie nelle aree rurali che sono quelle dove c'è più necessità. Un altro accenno che farei sono quelle attività oltre la sperimentazione, perché anche lì siamo stati di prima in Italia nel pensare quello che poi dopo col decreto semplificazioni è diventato o diventerà realtà, cioè l'estensione della vaccinazione anche all'herpes che abbiamo già fatto, al papilloma che faremo a breve o a brevissimo e alle altre vaccinazioni. Questo significa un'attenzione anche alla prevenzione, che è un po' il ruolo che la farmacia da sempre ha, oltre a quello al contatto con il cittadino che è il ruolo istituzionale che la farmacia ha da sempre. Grazie. Io ho tre battute, le devo esplicitare. Per noi questo accordo è stato un successo, le altre regioni lo stanno ripercorrendo, il Presidente Acquaroli ci ha sempre tenuto sin al nostro insediamento a potenziare questo tipo di servizio, quindi ringrazio i dirigenti della Sanità e anche il Presidente anche Dottor Patrignani, ma anche Federfarma, con cui c'è un rapporto dialogico di rispetto reciproco, secondo naturalmente interessi diversi. insomma, però che ha consentito di raggiungere obiettivi ben precisi, il fatto di Covid di prevenzione. Mi permetto di sottolineare l'importanza dello screening per l'accertamento del sangue nelle feci, che può essere presentato in farmacia, quindi sarebbe importante consolidare questi percorsi di screening. Lo voglio dire qui per inciso, spesso anche nel dibattito politico si parla di sanità come esercizio di un diritto e si dimentica che è interesse alla collettività, perché tanto più noi facciamo prevenzione, spendiamo di meno nelle assicurazioni sociali, ci guadagniamo in fatto dei fattori di produzione della nostra piccola, media e grande impresa, quindi diciamo che c'è un interesse prevalente rispetto a tutti il resto a prevenire. Io mi permetto di dire per le questioni che riguardano una conferenza stampa, i giornalisti presenti, che non è stata ancora ristabilita la prenotazione nelle farmacie per il CUP, perché ci sono ancora delle difficoltà di sicurezza del sistema, sostanzialmente, perché sapete abbiamo avuto subito un attacco hacker, ma stiamo lavorando in quella direzione, quindi chiediamo scusa ai cittadini che sono andati nelle farmacie per fare delle prenotazioni per il CUP, ma ecco c'è uno schema, un protocollo per la sicurezza di accesso nel sistema. E poi vi dico anche sempre per il CUP che stiamo ragionando per un modernamento del sistema, fibra, non più rete, diciamo così, cavo di rame, e questo fa sì che le farmacie siano un supporto straordinariamente strategico per il sistema della sanità della nostra regione, senza dimenticare che i nostri problemi sono in via di risoluzione. Primo, A, perché è stato aumentato il Fondo Sanitario Nazionale, B, perché dal 25 potremmo assumere più 15% del personale, C, perché con l'aumento delle borsi specializzazione, tra qualche anno avremo più medici da porre al servizio della nostra comunità. Quindi i disagi che noi viviamo sono in via di attenuazione perché le politiche sanitarie intentate sia a livello regionale sia a livello nazionale sono di diverso contenuto e fattore perché sono investimenti per la sanità e non più solo tagli. Questo ci tenevo a sottolinearlo perché spesso insomma emergono solo i problemi ma non gli investimenti che noi stiamo facendo. Non per ultimo concludo naturalmente il percorso di riforma, l'aziendalizzazione, il piano sociosanitario, il PNRR e alla fine di nei prossimi mesi gli atti aziendali. Se non ci sono domande, buona prosecuzione di giornata.